Siamo ancora nel soffitto dell'archiginnasio, in quella che viene chiamata la manica lunga. Qui è depositato l'archivio più esteso, più cospicuo all'errore di documentazione presente nella nostra biblioteca, l'archivio pervenutoci dalla famiglia San Piero e Tamone. La documentazione arriva fino in fondo al corridoio, disposta anche su due file di scaffali. La documentazione è veramente importante, non solo per la storia della famiglia, ma anche per la storia della nostra città tutta.